Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante, l'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità delle farmacie e delle parafarmacie. Nessuna corsa, attenzione, non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrocchieri, centri estetici, chiudono i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali, va attuata il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i concedi retribuiti per i dipendenti, restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione. Industrie e fabbriche potranno ovviamente continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori al fine di evitare il contagio. Sono incentivate le fabbriche e le industrie a predisporre misure che siano adeguate per reggere questo momento. Quindi regolazione dei turni di lavoro, ferie anticipate, chiusura dei reparti non indispensabili. Resta ovviamente garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti, dei servizi di pubblica utilità, dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi, nonché di tutte quelle attività necessarie, comunque accessorie, rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività. Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività. Quindi continueranno le loro attività nel rispetto ovviamente della normativa igienico-sanitaria. La regola madre rimane la stessa. Dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative per motivi di salute o per motivi di necessità, come il caso di fare la spesa. È importante essere consapevoli che abbiamo cominciato da poco a cambiare le nostre abitudini. L'effetto di questo nostro grande sforzo potremo vederlo solo tra poche settimane, un paio di settimane.